Ciao a tutti, sono Alberto Pomaro di Yara Italia e in questo video vorrei parlarvi dei supporti digitali messi a disposizione da Yara per i nostri clienti. In particolar modo oggi parliamo di Hatfarm. Hatfarm è un'applicazione completamente gratuita disponibile su App Store e Play Store. Grazie ad Hatfarm il controllo dei tuoi terreni e la concimazione di precisione è a portare di click. Ora vi spiegherò come diventare dei precisi on farmer in pochi semplici passaggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi che aspetti? Diventa anche tu un precision farmer grazie alla tecnologia Hatfarm by Yara.